Sono Eleonora Voltolina e sono la fondatrice della tesata giornalistica online Repubblica degli Stagisti. Il mio appello non potrebbe essere più semplice, non dimenticatevi degli stagisti. Questi ultimi mesi erano stati particolarmente buoni in realtà per i diritti degli stagisti perché si erano innescati dei processi che stavano andando a cambiare e migliorare le normative attualmente in vigore sia per i tirocini curriculari che sono quelli di competenza statale svolti mentre si studia, sia per i tirocini extracurriculari che sono di competenza regionale e si svolgono al di fuori dei percorsi di formazione. La cosa più importante è la sostenibilità economica dei tirocini, quindi l'introduzione anche per i curriculari di una indennità obbligatoria e poi la trasparenza sull'utilizzo di questo strumento in Italia attraverso un monitoraggio costante e la pubblicazione dei risultati annualmente di questo strumento. Noi speriamo davvero che il prossimo Parlamento non dimentichi gli stagisti che ci siano tanti politici che vorranno portare avanti queste istanze.